Se c'entrano poco, cioè Tiburtino Terzo... No, Tiburtino Terzo non c'entra, è uno scontro, però è una guerra tra poveri. Tiburtino Terzo c'è un centro di accoglienza. Sono d'accordo, però è una guerra tra poveri, sei d'accordo o no? Sì, assolutamente, ma è una guerra tra... Tiburtino Terzo, io lo inviterei, perché poi parliamo di quartieri... Vabbè, lui è partito, io l'ho citato, sul problema dell'integrazione. Sono quartieri abbandonati. Allora, tanto diciamo una cosa, no? Che non ci può essere la giustizia fai da te. Se uno ti tira un sasso, ci vuole una presenza dell'autorità statale, attraverso anche il Comune, che intervenga, perché non è che uno può... Detto questo, la reazione è una reazione che va condannata in maniera netta e chiara, dopodiché c'è una miccia esplosiva. Io a Tiburtino Terzo ci va... Gli abitanti del Tiburtino Terzo sono esasperati, ma sono esasperati i cittadini romani da sette generazioni come quelli che sono arrivati ieri, perché è un quartiere dove non c'è un servizio. Eh, ma tutte le giunte che c'erano prima, perché poi si fa presto, poi... Ma il tema non è la raggi solo, la raggi... Cioè, l'amministrazione comunale negli ultimi anni ha abbandonato, ahimè, anche le giunte di centro-sinistra hanno abbandonato le periferie, non c'è più una politica sulle periferie. Questo è il dramma, cioè, Tiburtino Terzo, come Torsapienza, vi ricordate qualche mese fa, esplodono perché sono quartieri abbandonati, ma se io devo aspettare un'ora e un quarto per prendere l'autobus, è normale che la percezione, anche di un centro di accoglienza, diventa una percezione esasperata e amplificata. Allora, siccome la guerra tra poveri fa male ai poveri, bianchi, gialli e neri, indipendentemente dal loro colore della pelle, io credo che bisogna intervenire socialmente. E la sinistra, e lo dico anche, non al PD in questo caso, lo dico anche alla sinistra di cui faccio parte io, quella che sta... la deve capire che quella bomba sociale che si esprime nelle periferie delle grandi metropoli o la affrontiamo senza fare troppi radical chic, oppure quella bomba sociale ci esplode tra le mani, la lasciamo lì, c'è un pericolo, la lasciamo alla destra ai Salvini, la lasciamo alla destra più estrema ai Salvini. Grazie a tutti.